Oh sì! Grandi gabbiani! Mamma mia, visto regà? Siate amici della natura, la natura vi ricompenserà, questo è quello che ci insegna questo gioco. Hola, il mio nome è Tearless Raptor e contrariamente a molti, io amo la pizza con l'ananas. Ovviamente si è fatta bene, eh, non potete prendere una pizza al prosciutto e schiaffarci sopra l'ananas sciroppato, quella sì che fa turbo schifo. Però una why fatta bene è una signora pizza, opinione controversa, lo so, ma da oggi non sarà più un'opinione. Infatti il gioco Pineapple on Pizza darà una risposta definitiva a questa stramaledetta domanda. È giusto mettere la pizza sull'ananas? No, l'ananas sulla pizza, idiota. In ogni caso vi ricordo che dal lunedì al venerdì sono in live a partire dalle ore 19, per un paio di settimane ancora ha diviso tra YouTube e Twitch, da settembre soltanto su YouTube, ma comunque sempre dal lunedì a venerdì a partire dalle ore 7. E ora avviamo questo stupido gioco. Dai, e cominciamo e... Ah, ma tra l'altro ho fatto l'achievement gioca, descrizione gioca. Fico! Salve amici, tutto bene? Che si dice di qua? No, fra è il 2023, non puoi dabbare, è illegale la dab. C'è il tasto picchia, prendi appugni. No, c'è il tasto crouch, anche il tasto sinistro. Mi dà fastidio sta cosa, però posso confondermi con loro. Ok, basta, 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 me ne vado via da qui. Salve, ma l'obiettivo di questo gioco quale sarebbe? Chiedo per un amico, perché, cioè... Non sto capendo. Ok, che si chiama Pineapple on Pizza, ananas sulla pizza, ma non vedo pizze, non vedo ananas. Frate mo, cosa devo fare? Compagno calvo. Non sei di molte parole tu, vedo. Ok. Slow dub. Slow dub. Ok, c'è anche la nonna che fa la dub. Salve, Shura, come stiamo? Non parla nessuno, ballano e basta. Si esprimono a danze. Devo fare la default dance, ma io non lo so fare. Posso comunicare a T-Pose. Salve, dove posso ordinare una pizza all'ananas? Vi prego, datemi infos. Ho la netta sensazione che questo gioco sia non stupido. Di più. Certo, c'era da aspettare, solo con un titolo del genere. Yes, Limbo! Mamma mia, quant'ero bravo a giocarci quando avevo ancora il fisico per poterlo fare. E voi direte, è colpa della panza da birra che cresce? No, 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 sono vecchio. Le ginocchia non reggono più un movimento del genere. Ah, che bello, essere giovani. Godetevi il vostro corpo finché ce la fate. Ci sono degli squali. T-Ar-Quali. Come T-Ar-Squali? È certo, squelli. Figa battuta proprio presa dal peggior libro di Barzellette di Geronimo Stilton. Aiutatemi. La Macarena! Fra, avete mancato un passo. Non potete passare da così a in basso. No, c'è la testa prima, poi si va in basso, poi si apre, poi si gira. Quanto dà fastidio all'ossessivo compulsività sta cosa. Ora si muovono tutti quanti perfettamente tranne un singolo stronzo laggiù. Lo odio. Maledetto. Ho fatto un achievement. Birdfriend. Avvicinati all'uomo che sta andando a mangiare agli uccelli. Una tartarughina! Ciao tartaruga! Ciao tartarugo! Come sta? Achievement. Tartaruga. Avvicinati alla tartaruga. Voglio assolutamente platinare questo gioco. Sarà l'obiettivo del video. Non appena capisco qual è l'obiettivo base del video stesso. Avvicinati al danzatore esperto. Ma perché fa un pochettino di tip-tap? Tra l'altro pure fuori ritmo. Cioè, con che rapidità me le muovi quelle ginocchia? Ma siamo su una cosa tropica... Perché c'è un iceberg? Posso andare in acqua? Non posso andare in acqua. That's sad. Ciao amici, cosa state facendo? State facendo tai chi per caso? No. State facendo tanto stretching, come non detto. Oh, fermi. Qua possiamo addentrarci più al centro, sembra. No. C'è solo una torcia fatta con un marshmallow. Ok, interessante. C'è un vulcano là dietro. Manco l'avevo notato. Aspetta che c'è un sentiero che ci porta verso il vulcano. Cacchio. Incredibile. Ok, non ho idea di quale fisica stia venendo utilizzata, però va bene. Guarda quanta gente che c'è, però. Oh, guarda quanto è grande, però. Questo posto è gigantesco. Hello. C'è anche gente qui. Cosa state combinando, voi? Cliff. Avvicinati alla Cliff. Ok. Lui è un altro di quelli che si apre a forbice. È tipo il livello di Super Mario quello con l'orologio. Guarda, devi colpirlo nel momento esatto. Ora, mi viene da pensare che qua debba essere scatenato un qualche cataclisma naturale. L'unica cosa che posso fare è yittarmi dentro... dentro il vulcano. Perché non posso raccogliere niente. Non posso interagire con niente. L'unica cosa che posso fare è saltarci dentro. Ha maggior ragione che ci sono 15 vie che conducono al vulcano se ci guardiamo attorno. 3, 2, 1. Yeet. Roviniamo l'equilibrio ontico di questo posto. Eh sì, sta salendo il livello. Eh sì. Eh sì. Eh sì, la stiamo per combinare. Ehm. Attiva il vulcano. The floor is lava. Grazie. Ma possiamo fermarlo anche, raga? Basta un secchio d'acqua. Basta trovare un secchio d'acqua qui e poi diventa tutta quanta cobblestone. Minecraft mi ha insegnato questo. Fra, ma non dimmi che schiattano mo' questi. La musica è cambiata. Sta prendendo fuoco tutto. Stanno schiattando. Ma invece che sta lì a calpestare la lava, scappa. Fuggi. Mamma mia, il volume è altissimo e niente. La signorina è morta. Stanno morendo tutti. Fuggite. Madonna le mie orecchie. Fuggite. Signore scappi. Sta arrivando la lava. Non dia da mangiare. Si guardi davanti. Sta prendendo fuoco tutto. Scappa. Non rimanere l'impietrito. Lo so che è brutto. Fuggi. Scappa verso l'acqua. E niente. Oh sì. Grandi gabbiani. Mamma mia, visto, raga? Siate amici della natura. La natura vi ricompenserà. Questo è quello che ci insegna questo gioco. Vola. Vola. Ma il casino che ho nelle orecchie. Voi non potete capire. Tra la musica altissima. Le urla disperate della gente. Il posto che va a fuoco. Io che in tutto questo sono assolutamente immune. Non sto capendo. Scappate deficienti. Brava. Oh. Una persona intelligente in tutto quanto il posto c'era. Bravissima. E però ci sono gli squali. Frate. Le barche. Questa cosa è geniale. Questa cosa è così stupida. Ma fottutamente geniale. E quindi questa è pineapple on pizza. Ho registrato la bellezza di 13 minuti e 53 secondi. Compresa la intro. Non penso di poterci tirare fuori un video da questa cosa qui. Però possiamo schippare. Oh mio Dio le mie orecchie. Che pace. Godiamoci 5 secondi di silenzio. Un attimo. Che relax. Comunque stavo dicendo. Geniale il concetto della lava che esonda. Esce fuori dal vulcano. Va a ricoprire interamente tutta quanta l'isola. E poi guardando l'isola dall'alto. Si vede l'immagine di una pizza con la fetta dell'ananas. Il fatto è che tutto è trasmesso per mezzo di uno stupidissimo gioco. Dalla durata di mezzo secondo. Però potrebbe benissimo essere il finale di una puntata di Black Mirror. Cioè è perfettamente attiva. Continua. Ok. Ah. E poi si ricomincia. Questa cosa è meravigliosa. Regà. Allora. Due obiettivi all'interno di questo video. Punto primo. Vedere cosa accade su tutta l'isola. Punto secondo. Platinare il gioco. Abbiamo sbloccato i primi 6 achievement. Ne mancano ancora una, due, tre, quattro, cinque. Dai. Ancora una decina. Posso anche fuggire dall'isola. Ho modo di farlo. Ok. Ok. Allora. Piano. Una cosa per volta. Prima guardiamoci attorno e vediamo cosa accade a tutti. Poi vediamo di platinarlo sto gioco. Sarebbe il secondo titolo che platino in tutta la mia vita. Il terzo in realtà. Ho platinato Minecraft. Potrei platinare questo. È il terzo gioco che ho platinato. È Turnip Boy Commit Stacks Evasion. È l'unico altro gioco che abbia mai platinato. Insomma titoli importanti nella vita. Dai rigiochiamo. Ricominciamo. Ciao abici. Ora so qual è il vostro destino. Mi spiace per voi. Ma prima sono andato a destra. Ma andiamo a sinistra. Prima sono andato a sinistra. Lo ricordo. Che accade lì. Oh fico sto cerchio. Anch'io anch'io. Anch'io. No eh. Oila. Fra. Dei cubisti. Tu sei completamente sbalblato e sgangherato fra. Ma quello fa il ballo della gallina. Ma che cacchio. Questo è il ballo del quacqua. E di un pappero che fa. 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 Fa culo. Troppo difficili le parole. Bro tu non ti stai divertendo. Che succede? Baby. Avvicinati al bambino. Ah. C'è un bebè. Ecco perché non sta ballando la signorina. Neanche l'avevo visto il bebè. Ok. Il bebè fa una bruttissima fine. Ma no poraccio. Beh diciamo che su quest'isola mi sa che muoiono tutti. Comunque. Oh sì c'è il cerchio libero al centro. Aspettate. Ci metto io. Ho fatto anche un achievement. Ce l'ha un ritmo incredibilmente. Non sembra ma ce l'ha. Per voi avrà ancora meno senso perché viene tagliuzzato in editing. Però vabbè. Loro stanno palesemente facendo yoga al parco. Proprio con le vecchie. Età media delle persone iscritte al corso. 85 anni. Salve voi due cosa fate? Due gemelle. Ballano guardando il muro. Questa è letteralmente la spiegazione di cosa devi combinare per il gioco. Cioè devi attivare il vulcano. Ma è geniale. Cioè quindi c'era scritto. Lo trovavi in giro cosa avresti dovuto fare. Questo tipo sta palesemente facendo un balletto di Fortnite a differenza di tutti gli altri. Ciao amico. Guarda come sei bravo a sciaffolare i piedi. Maro vorrei avere le tue skills. Pensa a quante sbarbine avrei potuto. Ma ho usato la parola sbarbine. Ti prego non finire la frase tirle. Comunque sarebbe stata conquistare. È la fine della parola conquistare. Sono questi i bambini di cui mi parlava l'achievement? Sono loro? Sono solo bimbi sembra. Non sono solo bimbi. Sono soltanto inginocchiati che fanno tipo una sorta di H fatta male. Ah questa qua è la foresta della tartaruga. Ok ci siamo. Però qua posso ballare perfettamente con loro. TRL gem. Gli. Gli. Basta andiamocene. Allora no. Fermi tutti. Fra ma pensavo fosse una donna nuda con le gambe aperte. Mi sono spaventato per un attimo. Invece no. È soltanto una conformazione di sciasci. Dov'è la via che ci porta su al vulcano? No perché non ne vedo in giro. Sei tu? Sei tu la via che ci porta al vulcano. E lo salve. Allora prima da che lato sono stato non lo so. Vedrò di yittarmi giù a casa di vedere cosa accade altrove. La tartaruga. Cosa accade alla tartaruga? Corri 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 corri. Dov'è la tarta? Non è qua la tarta. Ciao amici scusate se vi ignoro. Devo capire dov'è la tartaruga. Voglio vedere cosa succede alla povera tartarughina. No frate ti ho già visto che ti salvi. Vai dalla tartaruga. Vai dalla tartaruga. Vai dalla tartaruga. Ho fatto anche un dannatissimo achievement. Cammina attraverso il mais. Le barche. Le barche. Sali su una barca. Sali su una barca. Magari riesce a salvarti. Fan culo la tartaruga. Sta arrivando la lava con molta calma ma sta arrivando. Ce la possiamo fare. Ballerò la macarena con loro. No hanno smesso di ballare la macarena. Dai ragaz. Andiamo. Spingetemi. Bastardi. L'unica. L'unica che non ho spinto. No. No. Sì. Ce l'ho fatta. Sono sulla barca. Bastardi. Tiè. Stronza. Loser. Nuota. Nuota che adesso ci fermiamo. Tanto non ci fermeremo mai. Frate. Oh shit. Oh fuck. Oh heck. E' inevitabile. Sei spacciato. La morte è ineluttabile. Mamma mia. Comunque posso dire che come pizza con l'ananas è comunque pessima. Perché cosa c'ha sopra? Le olive nere e robe a caso. Tipo peperoni dovrebbero essere. Io ho un ricordo della pizza all'ananas che compravo dal benzinaio quando ho fatto il quarto anno di scuola superiore in Irlanda. E voi direte come dal benzinaio? Ma vi spiego. Io ho fatto il quarto anno di scuola superiore a Fermoy che è questo paesino a circa una quarantina di minuti da Cork dove poi sono andato a vivere per fare l'università. E a nord di Fermoy c'è un benzinaio che non ricordo dove sia. Oh mio Dio ha chiuso. Non c'è più. Era tipo qui. Ma così ci rimango male. Era questo qui ha chiuso. Non si chiama più Ember. Oh no. Ma ci rimango male. Però qua abbiamo ancora le foto con scritto Ember. Perfetto. E sì ora si chiama Inver. No fra ci rimango male. Comunque questo edificio qui che sta attorno all'area di servizio diciamo che ha la funzione di un autogrill. Quindi oltre ad esserci la cassa dove poi pagare dopo aver fatto la benzina c'è anche una sorta di mini ristorante. C'è un mini supermercatino cose di questo tipo. In quel ristorante facevo una pizza che costava 5 euro. A prescindere da cosa tu mettevi sopra. Tu la pagavi 5 euro. E io la prendevo sempre con tutto da animale quale sono. Quindi ti ritrovavi salamino piccante, prosciutto, ananas, peperoni, mais, olive, cipolla. Forse c'erano anche i pomodori sopra, proprio i pomodorini tipo. Non lo so sicuramente mi sto dimenticando qualcosa ma c'era troppa troppa roba. E c'era anche l'ananas in mezzo e vi dirò non era male. Per essere una pizza dal valore di 5 euro non era affatto male. Ma si può speedrunnare sto gioco? Oddio forse no non si può speedrunnare. Secondo me sì. Devi trovare la strategia migliore ma si può. Bebè salve. Cazzo voglio vedere che fine fa il bebè. Aspetta, aspetta, aspetta mo. Perché sicuramente come in qualsiasi altro videogioco di questo mondo il bebè sarà l'unico che si salverà. Perché i bambini non possono morire, no? Secondo i videogiochi mai. Anzi, l'unico videogioco in cui ho visto un bambino morire, e qui nel caso, spoiler, è a Plague Tale dove alla fine devi uccidere tu stesso il tuo fratello. Che è un bambino di 8 anni. Bellissimo. Cioè nel senso. Non si sono fatti i problemi a farlo fuori, ci sta. Per l'allora aveva perfettamente senso quella cosa. Comunque, vai di qua. Vediamo in che modo strano si salverà il bambino. Verrà preso su da un gabbiano sicuro. 100-100. Non ricordo dove fosse il bebè. L'ho perso. Ho perso il bebè. È qua il bebè. Dai. Signora, inizia a scappare prima che sia troppo tardi. Che sicuramente lei sarà l'unica in grado di salvarsi. Gli squali le faranno fare surf a bordo del bebè. Sicuro. 100-100. Shura, sta arrivando la lava. Le conviene scappare. Shura? Signora? Signora, scappi. Fugga. Fugga? Shura? Shura, invece che guardarsi indietro, perché non è scappata prima? E mo' è fottuta. Mo' è fottuta. Non puoi più fare niente, zia. Gli lo lancia. Gli lo lancia. Do it. Yes. No, fra. Yes, il passaggio. Non mi aspettavo che venisse boncato il bambino qua sopra e che poi schiattassero entrambi. Ho una sola parola per descrivere tutto ciò. Splash. Salve, Shuri. No. No. Non adesso che ho fatto l'achievement. No, i nonni. Mi piace che in tutto questo sia ancora gente che balla, comunque. Che concetto stupido che ha questo gioco. Lo amo alla follia. Fermi. Quali achievement mancano? Tazzitto, ti prego. Le mie orecchie non ce la fanno più. Quali achievement mi mancano? Ne ho fatti 12 su 16. Me ne mancano altri 4. Devo avvicinarmi ai bambini che stanno giocando. Non idea dove siano. Avvicinarmi alla statua. C'è una statua. Devo saltare dalla cliff e devo rovinare il limbo. Tra l'altro posso dire una cosa stupida. Mi piace che l'achievement play, quindi gioca, ce l'abbiano soltanto il 98% dei giocatori che hanno giocato a questo gioco. Cioè, che cosa hanno fatto gli altri due? Il risultato il 2% ha avviato il gioco e l'ha chiuso prima di cliccare su play. Perché appena clicchi play ti parte l'achievement. Sono non confuso di più. Allora, punto primo all'ordine del giorno. Andiamo a cercare i bambini che stanno giocando. Non ho visto bambini. Però potremmo anche saltare giù dalla cliff. Aspetta, aspetta. È un'idea. Comunque è colpa di te che continui a dabbare, eh, se è morto il bambino. Ve l'ho detto io. La dab non porta mai a nulla di buono. Salve? Ah, tu sei quella tutta melancolica che sta da sola a guardare il mare pieno di squali. Eh, bella vita, eh. Per ora. Qua, se non sbaglio, c'era il passaggio che mi portava fin su al vulcano, vero? Dove cacchio stiamo? Di là, vero? Ah, alleluia. Che difficoltà trovarne uno. E sì che ce n'è svariati. Mo, dove sta la cliff? No, 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 no. Non cadere. Mamma mia, idiota. Turbo scemo pirletta. Pirletta, salta giù che facciamo un'altra achievement. Spero di non spezzarmi le gambe. Ah, ecco, stavo per dire, non me l'hai dato l'achievement. Stavo per arrabbiarmi, se permetti, eh. Siete voi i bambini che giocano? Nah, voi siete cinque danzatori con il capello a scodella. Il limbo! Devo rovinare il limbo! Aspetta, 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 aspetta. Ti è stronzo! Ora mi mancano la statua e i bambini. Sento risatine. Sono qua i bimbi che giocano? No, no, non siete qui. Dove minchia stanno? E tra l'altro c'è anche una statua. Dove minchia sta la statua? Devo davvero andare a cercare le soluzioni su YouTube per capire dove siano i bambini e dove trovo la statua. Sennò devo semplicemente girare in tondo l'isola come un idiota. Te che cazzo fai? Il pollo da solo. Voi siete i bambini! Yes! Non avevo visti prima, però non saltate dalla sedia a sedia. È pericoloso, è pericoloso! Dove minchia potrebbe essere la statua? No, perché guardando l'immagine di anteprima dell'achievement sembra la faccina di un omino di Roblox. In realtà sarà semplicemente una faccina generica di uno di questi. Però riproposta come statua. È che non ho idea di dove possa essere. Statua. Vecchi! Salve, sciuri! Il peppino e la soralella. Che carini. Che coppia. Anch'io voglio essere così. Goals. Eccola! È qui! È qui la statua! È qui! Sto per platinare il gioco. Clamoroso. L'ho fatto. Oh mio Dio, è successo. Pineapple on pizza. Hai sbloccato tutti gli achievement. Fa vedere che bello. Ah... Inchia, l'achievement meno fatto è rovina il limbo. Con soltanto il 47% delle persone che ci hanno giocato che l'hanno fatto. Eh, lame. E comunque, ora che ci penso, il gioco non risponde alla domanda che ci siamo posti a inizio video. È giusto mettere l'ana sulla pizza? Per me la risposta è sì. Cioè, sulla pizza puoi mettere qualsiasi cosa. Su TikTok l'altro giorno ho visto un tizio che ha messo una pesca sulla pizza e sembrava pure buona. Speravo che potesse risolvere questo quesito una volta per tutto il gioco. Invece ha semplicemente posto altre domande a cui non voglio mai rispondere. Ahahah.